Al via la seconda edizione della Gran Fondo dei Saraceni, gara ciclistica in mountain bike lungo i sentieri naturalistici di Trentova Tresino ad Agropoli. La manifestazione è organizzata dall'ASD Cilento MTB con il patrocinio del Comune di Agropoli. In rilevante crescita quest'anno ha visto la partecipazione di circa 600 atleti, il doppio rispetto allo scorso anno. Nella seconda edizione credevamo in un aumento di partecipanti ma non a questi livelli, è impressionante davvero, ci ha un po' spaventato all'inizio perché sai quando ti arriva tutta questa gente, però il percorso merita, i ringraziamenti e gli auguri della scorso anno sono stati ripagati quest'anno e quindi siamo contentissimi. Adesso sono già arrivati i primi, qualcun altro starà arrivando però c'è ancora tanta gente sul percorso ma siamo soddisfatti che fino ad ora nessun incidente grave e quindi ci sta un po' con il tipo della mountain bike qualche incidente però è tutto sotto controllo. Facciamo capire bene ai nostri telespettatori qual è stato il percorso? Il percorso innanzitutto abbiamo voluto mostrare a tutti questi corritori che vengono da tutta la regione e anche fuori regione le bellezze prima di tutto di Agropoli quindi il centro storico e allora abbiamo invitato tutti i corridori a seguire un'auto che li accompagnasse poi nel centro storico. Immaginate poi la discesa degli scaloni quindi l'attraversamento dell'antica porta di sopra Agropoli per 500 bici in fila quindi è stato uno spettacolo unico e vedrete le immagini. Poi si sono lanciati in quello che è il Monte Tresino che ci rappresenta come parco verde di Agropoli e Castellabale quindi nei due comuni e lì ci sono percorsi a picco sul mare che trovano davvero in pochissimi posti in Italia e quindi questo ci fa gioco anche come l'anno scorso siamo stati premiati come la migliore gran fondo 2016 in campagna e anche per le sue bellezze oltre che l'organizzazione. Per un'organizzazione così complessa bisogna riconoscere che c'è stato davvero tanto impegno anche dell'amministrazione e delle varie associazioni sociali. Ma guarda innanzitutto il comune di Agropoli è un ringraziamento fortissimo, grande perché il sostegno è importante della città noi siamo contenti di promuoverla anche sui nostri canali, il nome di Agropoli è girato tanto loro ci sostengono e questo è importante perché città dello sport è anche questi sport minori ma che stanno prendendo tanto piede e poi sono spettacolari da vedere insomma, la mountain bike è uno sport che è bello da vedere e anche da fare perché poi nel verde è un mezzo ecologico. Poi ringraziamento la protezione civile, i croci rossi e tutti i volontari dell'acidente MTB e non quindi abbiamo messo in campo 120 persone, immaginate voi 120 persone che da giorni lavorano per studiare la mappa, i percorsi, il recupero, insomma gente caduta viene recuperata immediatamente, bici rotte vengono recuperate istantaneamente e questo ci premia come organizzazione perché voglio dire bisogna anche pensare al post service diciamo noi quindi il servizio te lo do nella partenza ma anche dopo. Naturalmente tutto questo è possibile grazie ai tanti sponsor? Sì, Giant, Brera Medical, Convergenze Perrella, Bar Serenella, Industrie Grafiche Campana per le stampe, BCC di Capaccio, la Tenuta San Giovanni e il Casificio di Lascio, Vesticchio per il supporto con i premi, Ciclidea perché insomma ci ha dato supporto con i pacchi cara, Bike & Sport, la panoramica Pietro che ci fa il passaparti ed è l'organizzatore della Sagra Giungano, della pizza cilentana e quindi è una garanzia anche su questo. Poi ci sono tanti sponsor che vedete qui dietro di me, CM, Infinity, Givova, quindi siamo contentissimi di questo supporto e loro hanno piacere a sostenerci proprio perché vedono anche che muoviamo tantissima gente contenta di passare una giornata di sole al mare, quindi famiglie, ecco questa è una cosa importante, tante gare le famiglie non vanno perché magari non hanno un diversivo, qui invece ci vengono con piacere perché sono già due giorni che stanno qui e vanno al mare, biciclette, passeggiano, il porto, bellissimo. Ebbene allora la Gran Fondo dei Saraceni si associa alle grandi manifestazioni che fanno di Agropoli una delle città più belle e interessanti dal punto di vista sportivo. I vincitori della Gran Fondo dei Saraceni 2017 sono stati Pasquale Di Lorenzo, team Rocca Bike, che si riconferma vincitore assoluto come lo scorso anno, al secondo posto Antonio Matrisciano, team Giuseppe Bike e in terza posizione Carlo Medaglia, team Giuseppe Bike.